Eravamo nel dopogara, la vittoria della Lazio con Savero Colabianchi, seconda linea del Lima, 5 punti tutto quello che serviva? 5 punti molto importanti per il campionato e per il carattere, avevamo bisogno di questa vittoria da tanto tempo, finalmente arrivata, una partita che abbiamo gestito secondo me molto bene, dura sul piano fisico, un vento molto forte, però siamo riusciti a mantenere l'alta concentrazione per la prima volta penso per gli 80 minuti, quindi sono molto contento per tutti i ragazzi e anche per me insomma. C'è stato un pizzico di paura al fine del primo tempo, non tanto per la metà subita, ma quanto aver segnato solo 12 punti e un primo tempo dominato? Sì, questa è un po' la maledizione nostra quest'anno, primo tempo sempre molto bene, secondo tempo caliamo molto, per poi sono la metà a fine del primo tempo, forse invece è stata la cosa che ci ha servita per capire dovevamo mantenere l'alta concentrazione, se no perdevamo anche questa. Dove ci sono le superiori migliorie della Lazio nell'andare di questo campionato? Punti forti, posso dire forse siamo abbastanza reattivi, quindi palle recuperate le sfruttiamo al meglio secondo me, sono i nostri punti di forza, dobbiamo migliorare tanto su quelle fasi statiche in cui siamo molto altarenanti, quindi non per forza sempre peggiori, ma non abbiamo una prestazione costante. Continuate a guardarvi le spalle dopo questa vittoria? No, no, si guarda sempre avanti. Grazie mille. Grazie a te.